Leone, sì Leone, vi verrà una giornata positiva, attirerete su di voi l'attenzione per quello che direte, per quello che farete, per quello che posterete, ok? Ma è chiaro che questa è una giornata fortunata, che vi rende anche molto generosi nei confronti degli altri, giornata che riesce a creare nell'ambiente lavorativo proprio l'atmosfera ideale per ottenere dei risultati o almeno per lavorare con l'animo sereno, in maniera anche più leggera e da pagante e poi i rapporti con gli altri che saranno fonte di gioia. Bene, poi dopo invece il...